Live Social Live Social Live Social Magari anche il numero di telefono Insomma mi dirai un pochettino Tu agli amici che ci stanno ascoltando In questo momento che magari hanno tanto tempo Per riflettere e sono a casa Che cosa puoi dire e soprattutto Se il tuo lavoro in questo momento È fermo o online riesci comunque A dare supporto Allora Il mio lavoro al momento è Diciamo si è trasferito online Nel senso che fortunatamente Riusciamo in alcuni casi Purtroppo non con tutti A seguire comunque attraverso le videochiamate O comunque attraverso consulenze video A comunque continuare alcuni trattamenti A fornire alcune consulenze Insomma più che altro di supporto E anche come suggerimento di attività Da poter fare a casa Ovviamente è difficile Perché non tutti Chiaramente sono pronti Per questo tipo di riabilitazione A distanza Che è la teleriabilitazione Che in America funziona tantissimo Ma qui in Italia Ancora Siamo un po' più resistenti Però devo dire Che da parte di tutte le colleghe Stiamo creando una rete Quindi stiamo cercando In tutti i modi Di darci da fare in questo senso Quindi con alcune patologie Si può fare Assolutamente Perfetto Allora Io ricordo agli amici che ci stanno ascoltando L'Instagram della nostra amica logopedista Lorella Bartoli Logopedista underscore Bartoli Underscore Molfetta Il Facebook Logopedista Lorella Bartoli Diamo anche il numero di telefono Per tutte le informazioni 340-876-5732 Per contattare la nostra amica Lorella Ahimè abbiamo finito il tempo a disposizione Lorella È stato un piacere averti qui Speriamo di risentirci presto È stato un piacere Salutaci Molfetta E tutta la Puglia Mi raccomando Grazie Grazie Arrivederci Alla prossima Arrivederci Ciao Lorella Ciao ciao